eccoci qua ragazzi eccoci qua un saluto a tutti buona domenica e ben ritrovati da parte del vostro Enzo del salottino dei tifosi ragazzuoli buona domenica e buon anno il primo video del 2023 torniamo a parlare nuovamente stavolta dopo tanto tempo si ritorna a discutere un poco del campionato dei club e roba varia però prima di cominciare con la polemica ragazzi perché vi avviso sarà uno sfogo il mio allora alzate il pollicione condivisione soprattutto ragazzi vogliamo il maggiore coinvolgimento da parte nostra nei nostri confronti e grazie per tutto il supporto che ci state dato che siamo arrivati a 433 iscritti mi raccomando speriamo di arrivare ai 4 e 50 dentro la fine di questo mese un abbraccio speciale da parte mia dal carissimo direttore e soprattutto da parte di tutto lo staff un abbraccio forte per questo pubblico che ci vuole bene e che ci dà sempre la soddisfazione di dare sempre di più ma detto questo ragazzuoli siccome io questi giorni vabbè un po scombustolato ci sono rimasto malissimo per la morte di ore i pelè grandissimo calciatore il migliore della storia scomparso 82 anni il 29 dicembre all'ospedale di san paolo ragazzi archiviamo questa storia perché mi ha trissa profondamente ma io vorrei tornare a parlare di una vicenda che di cui le voci sono arrivati non dico tanto tempo fa ma giusto un paio di settimane fa e andiamo a riepilogare nel frattempo ragazzi io prendo il bicchiere accompagno con un po di champagne giustamente per fare un brindisi alla faccia di quest'uomo che è un piccolo uomo la faccia tua torniamo a parlare perché questo è un messaggio dedicato a un certo dirigente a un certo uomo di sport luciano moggi che solo a pronunciare questo nome mi viene il disgusto sono sincero ci sta che te ne spali tante di quelle cazzate ma c'è una in particolare che non ho tollerato proprio tra le tue dichiarazioni sicuramente non metto sul dubbio la vostra malafede ho metto in malafede quello che ha fatto la juventus perché le cose lecite o illecite che ci sono state da che mondo in mondo come ci sono state buone cattive azioni le hanno fatte tutte a prescindere dal calcio ma quel che ti sei permesso di dire sulla roma del 2001 fa venire proprio in volta al stomaco luciano lo scudetto noi nel 2001 ce lo siamo conquistati costruire alla fronte rimanendo in testa la classifica dalla prima sessione all'ultima sessione quindi luciano sciacquati la bocca non con lo champagne col colluttorio da devi sciacquare o con il detergente della tazza d'eccesso perché questo è poco ma sicuro vergognoso vergognoso tappati la bocca così ti devi tappare la bocca prima di parlare di quella roma ti devi tappare la bocca capito pezzo di merda a te e tutti quegli stronzi che stavano nella dirigenza juventina perché ti dico l'umiltà di giovanni agnelli l'avete sfasciata con il vostro modo di fare sporco raga l'avete lasciata fare con il vostro modo di fare sporco la juventus è sempre stata una grande squadra ha avuto sempre grandi campioni grandi giocatori con una tale dirigenza siete stati capaci di portarla a calciopoli in tribunale non fatemi ridere non fatemi ridere a voi e tutti i tifosi juventini che vi difendono perché veramente uno schifo quello che ho dovuto sentire la storia di nakata e del passaporto storia vecchia storia vecchia veramente ma cosa da pazzi che tra parentesi nakata nell'estate del 2000 venne anche assolto a maggior ragione quindi non rompete il cazzo non rompete il cazzo perché adesso è stato uno dei principali artefici diciamo così di quello scudetto perché ha siglato il gol nella famosa partita juve roma del 2001 quando voi vincevate a delle alpi per due reti a zero prima con del pier a quarto e poi con zidane a sesto nel secondo tempo tento a precisare ragazzi che nakata si ha giocato gli ultimi 15 giri d'orologio è uscito dal campo al entrato in campo a posto di totti che capello non fece uscire capitano mossa tattica chi se lo aspettava una delle tante volte che sono rimasto contento perché in generale rimanevo sempre un po moggio quando usciva francesco raga perché totti è un simbolo però 2 a 1 nakata 2 a 2 montella noi continuiamo la corsa al tricolore e non ci avete fermato anzi e il pareggio è stato fondamentale raga è stato fondamentale perché voi tra parentesi avete perso lo scudetto perché noi l'avevamo vinto con due punti di vantaggio noi eravamo arrivati a 75 poi a 73 quindi fatevi onore che siete arrivati secondi 1 2 avete pure esonerato ancelotti quell'annata ancelotti che aveva fatto anche un buon campionato e non venitemi a dire balle terzo c'è una squadra della madonna posso dire che il centro campo aveva qualcosa in più per il fatto che voi avevate sidan avevate davis l'attacco ragazzi i per giri avevamo qualcosa in più noi con totti con battistuta del piero dopo il mondiale del 98 ragazzi è crollato un po si stava riprendendo di forza fisica però comunque avevate in zaghi avevate tre seghe ragazzi la squadra ce l'avevate ce l'avete sempre avuto rubato rubato ma che abbiamo rubato noi che abbiamo rubato e cari tifosi giuventini che che concordano con le opinioni di questo troglodita andatevi a rivedere lo scudetto dell 81 con turone io non c'ero meno male però quello che è stato visto pure la scandaloso gol di turone regolare annullato e il gol di turone era bono tra parentesi non fatemi ridere non fatemi ridere solamente te luciano bevi di meno l'alcol ti fa male all'età tua detto questo ragazzi chiudiamo il video alzate il pollicione se la pensate come me scrivete commentate dire quello che pensate perché io risponderò sempre attivate pure la campanella sempre forza roma ragazzi viva il calcio e tendo a precisare che questo video è dedicato a uno schiaffo morale che gli do a questo stronzo del luciano moggi perché comunque il primo che dovrebbe tacere proprio lui perché se la juventus è retrocessa a meno una volta in b è solo per colpa sua quindi coglioni chi va dietro a questo essere viva giovanni agnelli raga posso dire solo una cosa unico e vero uomo della juventus umiltà voglia di vincere insieme a boni perti quindi moggi buttati a mare te sicuro gli altri non lo so forza roma fino alla fine e la prossima volta evita di parlare che fai più bella la figura ciao ragazzi iscrivetevi al canale